Purtroppo anche quest'anno dobbiamo dire addio ufficialmente al capanno del Winterfest 2022 Con tutti quanti questi bellissimi regali, easter egg e skin gratuite per tutti noi Esatto, purtroppo anche quest'anno è finito il Winterfest, infatti oggi che state vedendo il video, ovvero il 3 gennaio Beh, l'evento è terminato, quindi addio a tutti quanti questi regali Beh, se anche voi siete tristi mi raccomando lasciate like e iscrivetevi in questo momento E adesso un saluto a Maria Giovanna che in realtà si chiama Lorenzo perché ovviamente guarda sempre tutti quanti i video Mette sempre like e ovviamente iscritto con campanellina attiva Quindi se volete essere salutati mi raccomando scrivetemelo nei commenti E ovviamente supporta un creatore Naxx2x all'interno dello shop Dai raga, mettetelo, siete tutti quanti tristi come me Scrivetelo nei commenti se siete tristi perché io sto veramente quasi per piangere No, ok, non esageriamo Però questo evento devo ammettere che era veramente bello Mi raccomando, like e iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzone